Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e anche se già sapete parzialmente perché sono qui, perché siamo qui, perché dobbiamo essere qui dopo aver passato mezza mattinata ad analizzare Revaul o almeno se Revaul potesse realmente dare un aiuto effettivo al mio team o meno ho deciso che può dare un aiuto effettivo al team, può essere posizionato in qualche maniera, in qualche luogo, in qualche lago, in qualche posto e quindi vale la pena provare a pullarlo, logicamente il banner è totalmente sfavorevole in maniera schifosa perché dire che in maniera normale è poco, in maniera schifosa perché Santana non serve, Gozza non serve, Müller non serve cioè, tre personaggi su quattro mi sono altamente inutili, sono anche sette step, quindi non è che sono uno, due, tre cioè sono sette step, cioè sette step sono un attimo sette step, ok però ok, sono un attimo sette step però ce la possiamo fare allora, se non esce Revaul, anche Santana non è che serve, però Gozza e Müller sono proprio uno sfottò cioè averli inseriti nel pull è uno sfottò totale, totale, cioè chi l'ha pensato di inserirli ha pensato proprio di trollare ok, prima vuota vuoti, cioè non vuota di più, vuotissima, Chester Brema, che almeno mi faccio no, no eh no ok, dieci eh, ok uno due no, ok, va bene sì, ok, ma no insomma ok, 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 ok sembra la voce di Revaul REVAUL ok, quindi abbiamo finito ringrazio tutti per aver visto questo fantasmagorico bellissimo, stupendo a CiuCiuVideo e bacio a cascata no, eh, oh, bacio a... bacio a cascata no, eh, oh, ok, 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 Grazie a tutti.